Universal Cut Il mazzo è interamente ordinato nei quattro semi dall'asso a cappa Universal Cut Il mazzo rimane interamente ordinato Nella sequenza andiamo a vedere Si prende il mazzo come se volessimo fare uno Charlie & Cut In questa posizione Asportiamo una porzione dal fondo Tra il pollice e il medio Quindi andiamo sull'angolo Inferiore destro della parte superiore del mazzo E aiutandoci con l'anulare e poggiando il pollice Asportiamo mezza porzione del mazzo Rimasto nella nostra mano Quindi ci troviamo in questa maniera Angolazione qua Con quello che ci rimane Andiamo sopra alla porzione prelevata Inizialmente dal fondo Quindi quella di traverso Lasciamo tutto E quindi sopra queste due portiamo La porzione rimasta E il mazzo è interamente in ordine Ho deciso di spendere un po' più tempo Nelle riprese E farvi una ripresa pure in prima persona Così da poter capire meglio Andiamo a vederla Stacchiamo un mazzetto inferiore Lo portiamo Sopra la parte rimanente Quindi stacchiamo un'altra porzione dall'alto Nella parte superiore Della porzione della nostra mano Portiamo quello che rimane Sopra La porzione Di traverso E Chiudiamo ancora una volta Quindi ben detto Fondo Sopra Sopra E sopra Una volta Fondo Mazzo Mazzo ritorna In posizione di servizio Mettiamo Di traverso Il mazzetto appena Asportato E recuperiamo una porzione Della cima E quindi Quello che rimane Lo mettiamo Sopra la porzione Di traverso E L'ultima porzione Ritorna Al suo posto Originale Spero vi sia stato D'aiuto E niente ragazzi Sempre in gamba Studiamo E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.